Superata la fase più calda dell'estate conclusa per il territorio brinisino con la festa patronale, tempo di bilancio per la polizia locale per il lavoro svolto in questa fase con un sempre più attuale tema, quello della precarietà dei numeri, come confermato dal comandante Antonio Refice. Il bilancio da parte nostra, come al solito, è quello del massimo impegno che si è profuso con le risorse a disposizione. Ovviamente se qualche inefficienza c'è e si evidenzia, è legata essenzialmente alla carenza di personale, è inutile che si giri intorno con giustificazioni che non stanno in piedi. Al personale non ho assolutamente nulla da rimproverare, nel senso che ognuno dei collaboratori ha dato il massimo, lo dicono i numeri, non lo dico io, in termini di interventi, in termini di accertamenti espletati. Per cui le difficoltà sono legate alla struttura, al numero assolutamente carente di operatori. Noi attualmente abbiamo 65 unità, a fronte di 170 circa che dovremmo averne, stando alla legge regionale 37 del 2011, o stando anche alla pianta organica approvata anche da questa amministrazione, come dalla precedente, dovremmo contare su almeno 112 unità. In realtà siamo, se stiamo alla pianta organica, alla metà del personale.